E' un orlo plaudente sul Canal Grande ad accogliere il cardinale Roncalli, nuovo patriarca di Venezia. Si rianimano le scene che abbiamo vedute nei quadri di Carpaccio, di Gentile Bellini. Il presule sembra ripetere l'impresa scritta sulla colonna della piazzetta. Pace a te Marco, evangelista mio. Accompagnato dal sindaco e dal prefetto prenderà posto sulla cattedra che fu di San Lorenzo Giustiniani e di San Giuseppe Sarto. Dirà ai fedeli, accoglietemi come un fratello. Dai mosaici della basilica, bagliori d'oro irraggiano sui colori della bandiera. Per Paolo II di Grecia Roma ha allestito un po' di primavera e quel sole indispensabile. Alla gloria della scala di Spagna. Terminati con la scorta del segretario, gli incontri personali con la città, il re di Grecia inizia quelli ufficiali con la capitale d'Italia. Questa tappa romana fa parte di una visita all'Europa. Al Quirinale, colazione del presidente Inaudi, nello spirito della rinnovata amicizia italo-greca. Una mappa che non è solo un progetto, ma è divenuta questa realtà del nuovo rione Colosseo. Lo visita Campilli. Sulla terra rimarginata si stanno rimarginando i drammi umani. Discorso di restagno. E il paesaggio che tremò nei giorni della guerra ascolta pacificato. L'abate di Montecasino accompagna il ministro al monumento dei caduti. È il nono anniversario della battaglia. Alle vittime possiamo annunziare che le loro famiglie non sono più senza tetto. È Cristina, già sergente Jorgensen. La società scandinava di New York le offre il diploma di donna dell'anno. E la onora come contributo alla scienza. L'ex uomo ringrazia. Sono 15 nati a Bruxelles. Si spiega l'inquietudine della madre. Il rifornimento di latte non sempre è bastevole. Fortuna che c'è questa mensa. Bucche e farine latte provvedono un vitto sano. Con anche il vantaggio che i cuccioli imparano presto a stare a tavola. Poi scrutano l'orizzonte da cui arrivano le ghiottonerie e i baci persuasivi come una nina nanna. Il paniere sembra un grande nido. Non sogneranno un mondo migliore. Così com'è è veramente ideale la loro vita da cani.